Guardi in che condizioni è la terrazza, anche quella mi viene giù, quello me l'hanno creato loro perché qui la frana non c'era. Ricasoli, una frazione del comune di Montevarchi, vive da oltre sei anni, un problema legato al cedimento del terreno di alcune colline. Su queste colline però poggiano le abitazioni e quindi si stanno creando dei problemi importanti anche alle case. Sentiamo proprio quello che ci raccontano i residenti. L'abbiamo chiusa di sopra dove c'è una voragine enorme e la teniamo sempre coperta con dei teli, votiamo l'acqua con i secchi e dal 2012 che si fa questo lavoro. La questione di Ricasoli ci dice l'amministrazione comunale va avanti da diversi anni. Le frane avvenute in passato sono state ripristinate con finanziamenti regionali e comunali e i lavori sul versante sud si considerano ultimati. Che anche lì insomma ci sarebbe ancora probabilmente da mettere qualcosa, anzi senza probabilmente, per vedere di concludere perlomeno quel lavoro che hanno fatto con i micropali e un terrazzamento. Questa che invece è la parte nord, secondo i residenti presenta i problemi maggiori. Vuoi le intemperie, vuoi l'eccesso di pioggia anche di questi anni? Si sta vuotando anche addirittura sotto, sono già intervenuti due volte. In questo momento l'amministrazione comunale sta valutando l'opportunità di prevedere l'affidamento per una manutenzione straordinaria specializzata che consenta alle opere di ingegneria ambientale di raggiungere il risultato ottimale previsto dal progetto. La situazione è comunque sempre sotto controllo e monitorata anche attraverso l'ausilio del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze.